Ciao a tutti. Sono tornato di nuovo a questo altro video tutorial. In questo video ti mostrerò come aggiungere un sondaggio nel canale Telegram. Ciao ragazzi, in questo video vi mostrerò come aggiungere un sondaggio nel canale Telegram. Ora aggiungiamo il sondaggio nel canale Telegram e ti mostrerò come farlo. La prima cosa è assicurarti di aver scaricato l'applicazione Telegram, quindi aprila semplicemente. Una volta aperta l'applicazione Telegram, ti indirizza qui e quello che farai qui ragazzi è aprire il tuo canale Telegram semplicemente toccandolo. Successivamente, come puoi vedere, l'icona del file nell'angolo in basso a destra, toccala. E questo apparirà qui come puoi vedere il sondaggio, basta toccarlo. Quindi qui nel primo passaggio puoi porre una domanda che vuoi porre proprio in questo modo. Dopodiché puoi inserire le opzioni o le scelte di risposta qui, ad esempio, proprio in questo modo e puoi anche aggiungere opzioni toccando Aggiungi opzione. Successivamente, ragazzi, toccate semplicemente Crea per creare un sondaggio nel vostro canale. Come puoi vedere qui, ragazzi, abbiamo aggiunto un sondaggio nel nostro canale e questi sono i passaggi e le modalità su come aggiungere un sondaggio nel nostro canale. Grazie per la visione, spero che questo ti aiuti.